E' stato presentato nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il sindaco di Molfetta Antonio Azzollini, l'assessore alla socialità Luigi Roselli e i responsabili della MGG Italia, il progetto che nei prossimi mesi metterà a disposizione di anziani e disabili cittadini un nuovo mezzo per garantire la loro mobilità. Si tratterà di un Fiat Scudo che da settembre sarà disponibile a Molfetta e il cui utilizzo sarà garantito grazie alle sponsorizzazioni raccolte tra le aziende molfettesi. Il progetto che in Italia coinvolge già oltre 700 comuni e ha messo a disposizione numerosi mezzi per il trasporto di anziani e disabili avrà durata di 4 anni, rinnovabile per altri 4 anni. Al comune di Molfetta spetterà soltanto provvedere al rifornimento di carburante e all'autista per la conduzione del mezzo stesso. Un progetto che però lascia qualche perplessità. Quanto sarebbe costato al comune di Molfetta acquistare in proprio un mezzo? E quanto invece costerà garantire un autista per un mezzo che effettivamente non sarà sempre nella disponibilità del comune? Domande che restano così campate in aria. Si attende ora settembre per vedere la realizzazione del progetto. Grazie a tutti.